Caffè! Buongiorno! Lo sapete che settimana prossima c'è articolario dal 29 settembre al 2 ottobre, quindi giovedì, venerdì, sabato e domenica e io sarò presente con lo stand numero 105. È in fondo alla Darsena, con la villa di fianco, arrivi alla Darsena, giri, c'è la statua, il tasso e il mio stand di Blossom Z. Vi aspetto. Dana ci racconti come farai il tuo stand. Allora, tema di articolario è la fiaba, quindi voglio ricreare un interno casa in esterno, quindi nel parco. Ho il tasso, una statua, adesso vi condivido la foto e poi vi faccio vedere ieri che cosa sono andata a recuperare, i tappeti, il salottino, le hortensie. Avete presente Salome Otterborn? Chi mi segue sui social che non ho più, perché mi hanno hackerato, sa che mi piace Salome Otterborn? De l'assassinio sul Nilo. Sì? L'assassinio sul Nilo ed era l'angela, l'angela, con due, l'angela Lansbury. Mi hanno hackerato, si vede, eh? Ho la pressione a mille, ho perso già due chili e faccio anche fatica a ragionare. Comunque, vi condivido la foto e un pezzettino di video dove vi spoilero lo stand che avrò a articolario. Questi sono tutti gli oggetti che devo portare per fare l'allestimento a articolario. Verrete, eh? Stand 105, Blossom Zin. Facatemi così ci parliamo, ci salutiamo, ci raccontiamo questi ultimi due anni e mezzo, che cosa è successo, che cosa avete fatto, che cosa ho fatto io, che cosa farò. Ho un sacco di novità, piano piano ve le dico, più avanti, più avanti, nei mesi più avanti. Una bellissima novità. Se vi state domandando perché mi hanno hackerato, perché, non lo so, ma come, ve lo faccio sapere in quegli altri video, quindi andate a cercarli. Perché, perché, non so perché, perché proprio a me, perché mi avete scelto, perché mi avete scelto.